ciao oggi facciamo un video bellissimo è arrivato un altro pacco che bella da un'altra nostra fan irene cos'è che ti piace di più quindi il pacco con i fenicotteri che belli vedete che bello quindi hai un desiderio tu vuoi la scatola io cosa ti ho detto settimana prossima te lo regalo ok cosa vuol dire fare la brava non lo voglio sapere non lo voglio sapere scherzo ok adesso vediamo cosa ci è arrivato vediamo apri tu dai quanti pensierini guardate aspetta pensate lì faccio delle io guarda hai visto guardate una scatola piena di noi di doni da cosa partiamo c'è una lettera c'è una letterina emma vieni leggila tu non ho la s molto bella è un percorso parecchio magari non devi dire la s puoi metterti giù ciao ragazze siamo martina e lucia ciao vi serviamo tantissimo noi non ci perdiamo nessun vostro video vi abbiamo mandato questo pacco perché siete fantastiche sono dei piccoli regalini speriamo che questo pacco arrivi presto abbiamo anche delle fan page su di noi che sono i re is my love e la famiglia delle crisetti speriamo che questi regalini vi siano piaciuti martina e lucia grazie adesso vediamo se ci piacciono i regalini ok Irene dai distribuisci tu no facciamo così allora aspetta scusa Mire oggi sono un po' indecisa allora vediamo prima vediamo le pergamene penso che saranno dei disegni ok guarda tu si questo me lo fai vedere per favore devo capire il verso giusto che l'ho capito è messo il verso sbagliato meno male che hai dovuto capirlo Martina bellissimo è per te ok poi che caso l'altra Martina ma che bello vieni Marti eh non sussurrare se l'hanno vediamo Micole bello bellissimo sono state bravissime eh vai Dani aprili aiutami a aprirli aspettate che adesso li consegniamo vai aprirne uno anche te Giada Giada che bello che bello bellissimo Camilla ma che bello ho capito questa cosa per me Emma Emma Gris Letizia Basta non ce n'è più? Aspetta che adesso la Dani ci dà gli altri Irene Ce n'è ancora uno? Sara Faddy L'Erica Ah manca la Faddy Faddy ecco che arriva Non si sono dimenticate di te Emma Bellissimo Perfetto Allora adesso ho visto che ci sono dei pacchettini Senza il nome Quindi vuol dire che dovete venire a sceglierlo Ok? Allora adesso una alla volta venite e scegliete il vostro pacchettino Irene se qua davanti sceglilo subito Ok Lo apriamo e vediamo cosa c'è Che bello un evidenziatore Un evidenziatore azzurro Ok fai il giro di là per favore Letizia Un evidenziatore Un evidenziatore Un evidenziatore Grazie Che bello Viola Giadi Giadi Palloncini per rire Palloncini per rire Non lo posso prendere Non lo posso prendere Ma non lo so Certo No perché la Camilla ha detto Prendi che tu Quei palloncini Ma tu hai preso un altro Questo ha un palloncino Ha un palloncino Giallo Evidenziatore giallo Giallo Miki Che colore prenderai tu? A tuo a caso Sì Non è un palloncino Questo però Rosa C'è il palloncino Colore Azzurro Erika Adesso sono curiosa Chi è che manca Erika Emma Ma è Emma Ma Marti Sei nascosta Ti sposti Non ti sei ancora ripresa Dall'isola dei famosi Verde Verde Bello Ancora non l'avevamo trovato Emma Che colore desidereresti? Non lo so Forse rosa O viola Vediamo Che colore rosa Come volevi Hai visto? Che colore? Emma Che colore vorresti? Sai che non saprei? Rosa 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 Per Emma Marti Arancione Arancione Sei la prima che lo trova arancione Che bello Ma grazie Un sacco di doni Allora adesso Vediamo Irene dove sei andata La mia valletta Irene vieni C'è ancora un regalino Vedi che ci sono dei braccialettini Bello eh Dai consegniamoli Allora Questo è di Letizia Anzi Fai così Fai così Scusa Dammi la me Va bene Mi chiamo io Leti vieni Spostati Ieri che la chiamo io Brava Letizia C'è il tuo Braccialettino Fa vedere Grazie Che bello Vai Emma Fadda Vieni Tuo Fai vedere Che lo inquadro così Bellissimo Emma Grisetti Per te Tutto Brillantinoso Grazie Martina L'altra Ah no Sei tu Scusami Grazie Bellissimo Anche per la Marti Camilla Che brava eh Un artista Sono due artiste Questo è per Nicole Nicole Brillantinoso Hanno fatto per Oh c'è anche un cuoricino Ma è bellissimo Sembra una bambina eh Mi piace più a me Che a loro mi sa Allora Questo è per Irene Eccoti qua Questo è per Giadi Giadi è bellissimo Con i cuoricini Anche a te C'è anche una Rosellina È bellissimo Che bello Grazie Hai visto Erika Bellissimo Grazie mille E Martina Martina Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Se l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Lasciate tanti like E ricordatevi di attivare La campanella Felice E ritenere i nostri Nuove video Vi ringraziamo tantissimo Ci è piaciuto tantissimo E ci piacciono tanto I pacchi Regalo quando arrivano Grazie 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 Grazie